Oggi è un progetto per portare la conoscenza delle opportunità della genetica, per migliorare la propria vita dentro le case delle persone. Negli ultimi anni noi come Dante Labs abbiamo investito in ricerca e sviluppo, in software, nel nostro centro di ricerca qui all'Aquila, per abbassare i costi del sequenziamento del genoma completo, ma anche per creare dei referti e delle risposte che siano comprensibili. Però oggi la conoscenza di questa opportunità rimane ad appannaggio di un'elite medica, tecnologica, biotecnologica, che ne capisce e ne ha studiato i benefici. Invece noi vogliamo che sia appannaggio di tutti e quindi oggi grazie a questo progetto Anima insieme a Vita Group porteremo questa conoscenza di questa opportunità nelle case di tutte le persone. Fino a pochi anni fa analizzare un genoma completo costava più di 100.000 euro. Ancora oggi andando in cliniche private, test parziali, quindi inferiori, costano ancora 20-25.000 euro. Noi invece abbiamo abbassato per portare il costo assolutamente sotto almeno i 5.000 euro e anche di più. Si sa quali tipo di medicine fanno male, che tipo di dosaggio è necessario per altre medicine, che tipo di nutrienti e cibi il nostro corpo reagisce in maniera positiva e in maniera negativa. Anche il tipo di sforzo e il tipo di attività giornaliere proprio per migliorare il proprio benessere della propria vita basate sul DNA, quindi sul nostro codice genetico. Non si scopre di cosa ci si ammalerà, però si scopre su cosa bisogna fare prevenzione personalizzata. Oggi prevenzione si fa ancora molto basata su medie nazionali, medie internazionali, famare e mangiare i dolci, famare e mangiare la carne e bisogna fare l'analisi del diabete. Invece ci sono altre malattie più specifiche per cui alcuni di noi hanno una predisposizione. Sapere quella predisposizione significa avere una conoscenza e quindi avere un'arma in più per non ammalarsi. Allora la nostra parte sarà quella di informare più famiglie possibili, visto l'attività di Vita Group che è un'attività rivolta alle famiglie, che esiste oggi la possibilità di fare questo test del genoma, un iniziamento 100%, quindi questo laboratorio tra i più tecnologici del mondo, per avere un referto fantastico, che il referto ci indicherà come poter vivere meglio e vivere di più. Penso che sia un qualcosa di straordinario. Voi come farete arrivare queste informazioni? Come le farete arrivare? Allora, noi tutto il materiale che ci darà il laboratorio lo gireremo alle famiglie quotidianamente attraverso il lavoro che riguarda Vita Group sia in Italia che riguarda le oltre 14 nazioni con le quali noi facciamo business attualmente. Quindi l'obiettivo è in tutto il mondo.